Sarà visibile fino al 7 ottobre il pavimento marmoreo della Cattedrale di Siena, il più bello, grande e magnifico che mai fosse stato fatto, lo definì Giorgio Vasari. L'itinerario completo consente, oltre la visita del pavimento in Duomo, quella al Museo dell'Opera, in cui si possono ammirare nella Sala delle Statue i mosaici e le tarsie originali di Antonio Fedrighi, con le sette età dell'uomo. Il pavimento è il risultato di un complesso programma iconografico realizzato attraverso i secoli, a partire dal 300 fino all'800, con oltre 50 tarsie, i cui cartoni preparatori furono disegnati da artisti quasi tutti senesi, tranne il pittore Umbro, Pinturicchio, autore nel 1505 della tarsia con il Monte della Sapienza, raffigurazione simbolica della via verso la virtù come raggiungimento della serenità interiore. La tecnica utilizzata per portare sul pavimento i disegni degli artisti è quella del commesso marmoreo e del graffito, all'inizio in modo semplice tratteggiando le prime tarsie sopra lastre di marmo bianco con solchi eseguiti con lo scalpello e il trapano, riempiti di stucco nero. Nei secoli la tecnica si affinò in quella cosiddetta del commesso marmoreo, con marmi colorati accostati assieme come in una tarsia linea. Per motivi di conservazione il pavimento della Cattedrale di Siena è generalmente coperto nelle zone di maggior frequentazione da fogli e di masonite, tranne una volta all'anno, questa.